Nel 2021 l'Abruzzo ha saputo confermare gli ottimi risultati dell'anno precedente circa la raccolta differenziata di carta e cartone, una sostanziale stabilità nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e ai continui stop e ripartenze nel periodo in questione. Tutto ciò emerge dal 27esimo rapporto annuale presentato dal Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. La raccolta in Abruzzo sfiora le 73.000 tonnellate e di queste il Comieco ha gestito direttamente 67.119 tonnellate pari al 92,3% della raccolta, riconoscendo ai 279 comuni convenzionati dei corrispettivi economici per oltre 5 milioni e mezzo di euro. Le restrizioni e i diversi via libera hanno fatto soffrire le province dell'Aquila meno 5,2% e di Teramo meno 2,3%. Nonostante queste contrazioni la raccolta complessiva resta stabile. Provincia di Pescara 17.000 tonnellate di carta e cartone con un procapite di 54,6 kg. Provincia di Chieti oltre 23.000 tonnellate 61,2 kg per abitante all'anno. La provincia dell'Aquila oltre 15.000 tonnellate 53,3 kg. Provincia di Teramo 17.000 tonnellate per 56,2 kg per abitante all'anno. Secondo lei per migliorare ancora di più queste comunque ottime percentuali abruzzisi cosa si dovrebbe fare? Sicuramente può essere molto utile una attenta e più diffusa comunicazione verso gli utenti. Credo poi che partendo proprio qui da Teramo e dalle montagne del Teramano, cominciando dal Re delle Montagne che è il Gran Sasso, potrebbe essere anche molto utile pensare a un'iniziativa specifica sugli escursionisti e quindi anche i turisti, tanti turisti che cominciano ad affollare le vie della montagna. Ecco, queste sono delle strade che potrebbero incrementare la raccolta differenziata di qualità.